Ha preso il via con la rappresentazione 900 napoletano, alle terme di Agnano la rassegna Napoli Village Festival, patrocinata dal Comune di Napoli e realizzata da un pool di imprenditori partenopei. Fitto il calendario di eventi, illustrato nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte l'assessore allo sport e spettacolo del Comune di Napoli, Giuseppina Tommasielli e il presidente del Consiglio d'Amministrazione delle Terme, Marinella De Nigris. Incantato lo scenario dove, in tre dati a partire da stasera, si esibisce anche Francesco Paolantoni. Io ho debutto qui con uno spettacolo col quale ho già debutato a maggio al Teatro Acacia, uno spettacolo prodotto dalla Comico, la mia prima commedia scritta perché fino ad ora ho scritto cose per one man show, cose televisione, ma una commedia vera e propria con sette personaggi con una struttura d'almaturgica diretta pure da me non l'avevo mai fatto. Mi sono molto divertito, sembra che sia molto divertente, per cui questo contesto è molto appetibile. Il Clou della Rassegna è il 2 agosto con il concerto di Mario Biondi, ma tanti gli artisti e varia l'offerta. Domani è la volta degli Alma Megretta. È una reunion insieme a Raiss, quindi torniamo a suonare insieme, abbiamo fatto un po' di concerti e presenteremo un concerto a Napoli con i nostri due vocalisti attuali, cioè Raiss e Marcello Coleman. Tra i graditi ritorni è anche quello di Dino Buonocore, che si esibirà il 30 agosto. Da tempo che non sono a Napoli, credo che sarà una bellissima esperienza, come del resto mi fa pensare tutto quello che si è preparato per questa rassegna. Spero di non deludere le aspettative, perché è veramente tanto che non sono a Napoli. Con Napoli c'è un rapporto molto particolare, perché non sono un rappresentante proprio del folklore napoletano. Però è anche vero che mi sento molto molto più napoletano di quanto si pensi. In cartellone tra gli altri anche Pietra Montecorvino, Enzo Gragnaniello, Peppe Barra, Isa Danieli e il maestro Nicola Piovani. Grazie mille. Insomma per te salire. Nesta natazione, a festa è un rassemble, per te salire, a chi non HO». È un rassemble mio. Grazie.